pass sbloccato abbiamo fatto davvero ora ci andiamo a shopper tutto però ora si va a full shoppare dai ci apriamo un po di roba ci andiamo ad aprire un bel po di roba ciao baddi ci andiamo ad aprire un po di un po di roba dai andiamo a 2005 di bling questa che è bellissima davvero molto bella abbiamo 100 di questi 100 bling 1000 di oro che sono col bonus quindi 2005 di ora andiamo a credare qualche altro brawler adesso va bene anche bella anche questa in serie perché se indice la stiamo aspetta un attimo baddi se indice la stiamo andando a prendere raga qua sono col bonus quindi altre 10 grazie di paolo giù benvenuti poi abbiamo questa reazione pazzesca altri mille più quanti di bonus 1500 ragazzo per passo troppo troppo ok c'è al massimo di bling che non posso prendere non è un problema attenzione qua andiamo pure su questa parte va bene mille di oro ce li stucchiamo questi che ancora non posso prendere cento di questi cento di questi altre un bel po di gemmozze ci possono tornare utili altra icona che non è icona ma non mi ricordo il nome il pin che cosa era questo poi abbiamo qualche vabbè tre star drop di aprire e ce li apriamo andiamo subito mai con questo il primo vediamo se mi da qualcuno di decente ragazzi ok questo va bene andiamo con questo quest'altro il secondo super raro niente di che ciao ciao benvenuti benvenuti raga benvenuto a tutti questo va bene pure attenzione con quest'altro super raro niente di che l'ultimo nada fatto ma come sto spinnando bene però mi sto imparando fortissimo oddio manco parlato sto iniziando a sapere spinnare un po buonissima questa raga davvero molto buona questa mi è piaciuto tantissimo sto game davvero tanto 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 bravi quasi morto vai no oddio che col baby e con lei quello bravo oddio bro eh sono morto no penso di no non lo so c'ho la ulti pure sono morto cazzolina dai una mano bravo mettere all'angolo fo se riesci mamma mia raga bravissimi bravissimi ce la fate un bel po di danni fatti bella che il suo corvo bella che il suo corvo sono morto peccato no frate è andata stiamo beccando gente troppo forte c'è ma è possibile questa cosa beccato beccato Grazie a tutti.